Il neoassessore al turismo Etienne Lucarelli mette in pratica il suo bagaglio professionale di esperienza nel settore del volontariato, ovvero pianificazione, programmazione e mediazione con le parti interessate. Da buon esperto di marketing sa quanto sia importante mettere sul tavolo tutte le risorse e le idee disponibili per raggiungere il miglior risultato possibile e detto fatto, come annunciato in campagna elettorale, il primo dei tavoli di concertazione sul turismo è partito e dopo due incontri si incominciano già ad allineare le dirittrici da prendere. Subito ferma è arrivata la condanna all'abusivismo e alla concorrenza sleale che in soldoni si traduce per il comune in mancati introiti, vedi, tassa di soggiorno, ma anche una rete di contatti con il resto del territorio per allargare l'offerta turistica come insegnano le tante iniziative tipo i tineris e compagnie bella. Il primo incontro, prima della stagione, anche un po' di conoscenza tra tutti gli attori del comparto, un secondo incontro sicuramente più operativo con tutte le associazioni di categoria al quale seguiranno incontri anche allargati con tutti gli attori del comparto turistico, quindi anche con coloro che realizzano i maggiori eventi della città perché credo che ci sia una grande necessità di fare squadra, di unirsi per arrivare sicuramente a dei risultati importanti per la nostra città. Al tavolo della scorsa settimana, oltre all'assessore in questione, hanno partecipato le associazioni di categoria, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Union Camping, Oasi Confartigianato e alberghi consorziati per individuare i cluster del 2020 su cui poi realizzare le strategie di marketing. Si è parlato del calendario eventi 2020, quindi di come anche le manifestazioni che nel momento della loro realizzazione portano in sé il nome della città di Fano possono promuoversi, quindi con dei messaggi integrati ovviamente con gli assessorati e con il tavolo tecnico. Si è parlato di raccolta dati, importante raccogliere dati sia in termini generali su presenze e arrivi ma anche sugli eventi per fare in modo che abbiamo un'idea chiara su quella che è l'attività turistica della città e quindi su dove devono essere effettuati gli investimenti. Abbiamo parlato di brand e dell'importanza dopo le basi costruite in questi anni con la creazione del nuovo brand, oggi l'importanza di fare un passo in più strategico anche a lungo termine della città e quindi di capire quale sarà il legame tra i brand ed i prodotti, i messaggi che lanceremo, l'immagine pura da dare alla città. Oltre al 2020 archiviata l'estate, ora l'attenzione si concentra sul turismo invernale e quindi a distanza di poco più di 60 giorni i mercatini di Natale che quest'anno potrebbero venire coronato l'antico sogno di molti, ovvero quelli di riportarli al pincio ora che è ritornato a nuova vita, evitando così il monta e smonta degli anni scorsi in piazza. Io direi che negli ultimi 5 anni il Natale nella nostra città è cresciuto molto, che ci abbiamo creduto veramente tanto e quindi sarà sulla stessa linea guida dell'altro anno. L'idea a lungo termine è quella che il Natale riesca ad esprimere in linea generale le caratteristiche della nostra città. Ci dobbiamo trovare pronti con dei progetti importanti che possono attivare la città sia dal punto di vista turistico che anche dal punto di vista commerciale.